Una ecospiaggia di Pescara tutt'altro che sostenibile per i diversamente abili. Questa è la denuncia dell'Associazione Carrozzine Determinate che questa mattina nel corso di un incontro con la stampa ha criticato la costruzione dello spazio dedicato alle persone più svantaggiate. Il presidente dell'Associazione Claudio Ferrante ha puntato l'indice contro il sindaco di Pescara Carlo Masci chiedendone le dimissioni. Abbiamo verificato che non c'è il criterio della spiaggia accessibile, non ci sono parcheggi, non ci sono piazzoline di sosta dove il disabile può soffrire della spiaggia e poi del mare. Abbiamo giochi fruibili e inclusivi, avete visto con le vostre telecamere, uno scandalo totale, un gioco inclusivo e fruibile posizionato sulla sabbia. È assurdo e inconcepibile, hanno fatto le docce accessibili ma poi in realtà una persona in carrozzina non può venire al mare. Quindi ci troviamo di fronte a una discriminazione punita dalla legge. Ci troviamo di fronte davvero a una violazione dei diritti umani. È inconcepibile che spendere 170 mila euro di denaro pubblico possa essere finito in questo modo. Ma noi ci siamo posti da subito nei confronti dell'amministrazione comunale e abbiamo detto convocateci, vi diamo tutti i consigli gratuiti perché veramente questo sarebbe potuto essere un gioiello. Non solo non ha risposto ma altrettutto non è venuto nemmeno ad incontrarci, non ci ha convocati e io credo che un sindaco deve dimettersi perché un sindaco che non è in grado di ascoltare il dissenso, di incontrare le persone, i cittadini e soprattutto i cittadini disabili, penso che non possa fare il suo mestiere. Evidentemente non ha capito nulla. Siamo davvero arrabbiati, non è possibile anche perché è una vera e propria discriminazione. Il comune ma che programmazione ha? Scusate questa spiaggia è stata inaugurata al primo agosto, cioè alla fine della stagione. Il comune di Pescara non ha una sola spiaggia pubblica accessibile ma veramente veniamo presi in giro e sentiamo ci dà fastidio quando il primo cittadino va in giro a pubblicizzare che quest'estate è tutto meraviglioso e preciso e perfetto. Ricordiamoci che noi paghiamo gli amministratori pubblici, li paghiamo noi e quindi sono al nostro servizio.